Sì? Dove? Quando? Che festa è? Che festa è? Che festa è? Eh no, non vado bene perchè ancora non devo fare se per torri per i bambini. Ah no? No. Va bene allora. Ciao. Vieni una cosa? Dimmi. Ma stai passando con questo cazzolo? Sì. Una ladrina. Lo sai che cosa? Ho perso! Peppa! 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 Peppa Piscione! Peppa! 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 No non scende! Ah beh! Stai giuendo! Ah no! Mi raccoglievi le macchie! Ma chi è così? Peppa! quella puntata che ripiosa. Eccola! Peppa che salta! Eccola sono loro la macchia! Guarda imparare! C'è baci come? sei buono beh